Musica Bello a tutti ragazzi bentornati qui sul mio canale Come sempre qui con voi ci sono io SamSami02 in questo nuovo video Eccoci qua finalmente su Road to Division 1 Come vedete sto a 6 punti perché come vi avevo detto Ho giocato e appunto avendo problemi con l'audio non ve l'ho potuto caricare Quindi andiamo a giocare Questa è la mia formazione Ora vedo perché comunque ho deciso di prima farmi una squadra E poi di portare il Road to Division 1 E quindi ho scelto la serie A abbastanza forte Comunque se vedo che è troppo forte la cambio con quest'altra rosa Eccola qui con Alex Hunter lì in bella vista Non so se farlo giocare o no Comunque al posto di quella serie A ci sarebbe questa Che comunque non è una squadra da poco Ma andiamo subito a cercare un avversario con l'altra rosa No raga è incredibile Come mi abbia detto Che finora Che ora non finora Non sono disponibili le partite Quindi è incredibile E' destino che Non vada giocato questo Road to Division 1 Ora appena FIFA Ora ve lo faccio vedere L'accesso alle partite è stato temporaneamente disabilitato Ci scusiamo per l'inconveniente E ci aspettiamo di essere prestina Dentro breve riprova più tardi Questo ci dice il gioco Non ci vuole far fare questo Road to Division 1 Dopo i problemi con l'audio che ho avuto ieri L'altro ieri Prima dell'episodio della carriera E quindi mi rode abbastanza il culo Quindi ora andiamo a vedere E ad aspettare Che Migliori la situazione E quindi andiamo Poi a giocare Dunque eccoci qua Ritornati Diciamo che Sono tornato il giorno dopo Ve lo ammetto Perché mi ha persistito tutto ieri Quel problema E non sono praticamente Riuscito a far nulla Quindi Proviamo il giorno dopo Se ci trova Un avversario E Iniziamo Questo Road to Division 1 Dunque Avversario trovato Johnny il Divino E andiamo a giocare È un italiano Vediamo che squadra Ci mette davanti Una serie anche lui Con Un 81 di rating E un 96 di intesa Sulla carta siamo più forti Però È tosta Dunque Andiamo a giocare E ci vediamo In campo Si parte Match è per loro Al 60esimo Abbiamo dovuto aspettare Il 60esimo Per il primo Per dire in porta Qui grossa al centro Filippe Anderson Viene chiuso Deve uscire qualcuno Ci pensa Salahif Su Giorginio Bruno Perez Sarà Cornel Verso Allan Allan Entra in aria Calcia Calcia culibali Vaffanculo Sì Arriva prima L'appoggia per Vanega Che vada Caglia con C'è dall'altra parte Salah Visto Salah Salah 1-0 1-0 Che contropiede Tra Calia con Salah I due nostri velocisti Con l'esterno sinistro Calia con Ci porta in vantaggio Gran palla per Salah Dentro per Riccardi Che la dà per Calia con Icardi Non l'ha passata Gio Mario Ebrac Calia con Gio Mario Grande azione Gio Mario la mette Salah 2-0 Che gioco Che azione Che taglio di Salah Sul primo palo Anticipa tutti Anticipa anche Mario Ruzzi Ci porta sul 2-0 Assist e gol Prima mezza La partita Vinta con voi Nel rotto division one E ora Andiamo Subito a cercare Il prossimo avversario Per passare Nella prossima divisione Siamo passati Ma per vincere questa Quindi Andiamo Subito A cercare Un altro avversario Altro avversario Trovato Dark 99 Night Si può giocare così Perché gioca in maglia rosa Ok Io sono pronto Lui è pronto Andiamo a leggere La sua formazione Vediamo che formazione ha Dai Dai FIFA Non mi fassi scherzi Per favore Cazzo Ha una serie A Mesta a qualcosa altro No Ha una serie A Con un centrale di difesa Brasiliano del Francoforte Un portiere del Francoforte E James Rodriguez In prestito Ha un 79 di rating E 75 di intesa Quindi andiamo a giocare E a rompergli il culo Si parte Attenzione Icardi 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 Imanolas Sarà corner Cazzo Non la prendiamo sotto tono Questa partita Ho visto che gioca molto bene lui Contro per James James Rodriguez Viviano Ci salva ancora Che fortierone Ve lo consiglio Viviamente Non è la prima volta E ci salva Il culo Ve lo consiglio Assolutamente Viviano Ha dei riflessi Pazzeschi Dai bra Senza fallo Bravissime bra Male puoi nel disimpegno Icardi Vedi Porca puttana Siamo superiori a questa squadra Ma se giochiamo di merda Che cazzo Una zer La Dentro No Ci salva un culo Per la 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 Verba nega! Sarà corner! Sul palo del pochiere Terza subito con lo stop Perotti Perotti Calcia Perotti Palo Incredibile Poi Salah Salah L'Osl Ma che cazzo di spiga ho A Gabbiatini Cazzo Manu Loss Ti amo Zomani Vanega Kayekon Si gira Kayekon Fuori di nulla cazzo Cazzo Poi Salah Fuori di nulla I guardi è forte il mio no cazzo Porca Vanculo Anche rosso ora sicuramente 3 2 1 Cartellino Rosso per Bruno Perez Buono Ma vaffanculo a Viviano 2 a 1 Ma tanto Che cazzo vi esultate avete perso Che cazzo vi esultate 2 a 1 Vaffanculo Caputana Ci vediamo al menu principale Allora raga Bentornati al menu principale Dobbiamo rimandare la vittoria del titolo La prossima volta La prossima volta E se vinciamo la prima Andremo a giocare anche la seconda La nonna divisione Quindi Porca puttana Dobbiamo vincere Scusate per la partita Se mi roteva un po' il culo Però avete visto Il rating era di 75 Mi pare L'intesa di 79 Non mi ricordo se è il contrario Non possiamo perdere con quella squadra Dai Ci vediamo Nel prossimo episodio Però uscirà La carriera Finalmente siamo riusciti a portare Il rotto di Vision One Prima i problemi con l'audio Poi Un incredibile Problema Di FIFA E quindi Da Siam Siam è tutto Iscrivetevi Lasciate un bel like E Bella a tutti Grazie a tutti